C'è una nota di un editorial di Aruba Awe, che ha menzionato le mie persone sui nomi, relazionati e espressioni con le persone in una riunione con il loro luogo che si hanno passato per creare il fondo di criminalità. Secondo l'editoriale, le mie persone ha fatto una serietà e mi ha lanciato una serie di accusazioni in una persona nella nostra comunità e mi ha pretenduto malusare e manipulare la verità. Mi ha detto che non ci sia un quadro con la realtà e mi ha servito a comprender che questo è un'editoriale che non lo può presciare in una riunione pubblica, ma se non lo può riparare in alcun momento, mi ha lanciato un'accusazione, non ma come a Rasi uso di e derecho che noi stiamo come parlamentari e anche di debere che noi stiamo come parlamentari, ma Rasi pregunte per il nostro ministro Dauers e anche il nostro ministro di Mesa e sa che il derecho che noi stiamo nella nostra Costituzione, il nostro paese, e in modo che mi ha fatto un'accusazione come parlamentari, ma non è un'accusazione, ma non è un'accusazione, ma non è un'accusazione. Il nostro paese è un'accusazione, ma non è un'accusazione, ma non è un'accusazione, ma non è un'accusazione. non è menestero qui, ma sia il nostro popolo per riazzare la verità di essa qui. Ora, se è costruito a Bairrobes, nel momento che il ministro di Mesa, e il signor Bava Herdei ha deciso di brujattera, e ha fatto come se fosse mia persona, che è un'unico che sta accusando e compagnia, non è un'ombra, non è un'articolo di prensa. E non è il cammino di ora, non mi ha pido il mandatore, non mi ha appunto di ordo, ma mi ha corriginato, però dopo che non si ha corriginato, ma che non mi ha corrigato, non mi ha riparato, e poi la strategia, ma si è un'ombra, e il signor Bairrobes è un asunto, ma trece e il discorso ora in andalante, e poi ora in andam, mi ha pido il punto di ordo, e ora mi ha fatto come pubblicamente responsabile, ma è accusazione qui, e le conseguenze non mi ha fatto come se è un'ombra, il signor Bava Herdei, e anche il nostro Presidente del Parlamento, signor Krus, per motivo è che permettere un***nsno come trece e il punto di ordo per correg aside, non mi ha fatto bene fare il Signor Bava Herdei, e ora non è un buon Leo Ezagio, che non mi ha riparti il nostro Presidente del Parlamento, non mi ha riparti il terro, e ora non mi ha riparti il bracppo, e ora non mi ha detto, che non mi ha ipoptato, e ora non mi hapri come la situazione, ma il quale questo tutorial, mi ha detto, è che è un buon? e una bella, a ripassare la riunione, mira qui cosa passa, e ora non pone un'editoriale che sta riflessando in un'altra banda di medaglia, ma se sei lo etico e lo professional e ora non paga, ora non paga evitare, ora non con mal, il pueblo sta guardando mal informare arriva lo qual sta passa nella sala di Parlamento.